Ciao a tutti ragazzi, oggi andavo, per giusto dovevo fare un video sul Roblox, infatti prima lo sto registrando, poi mi sono accorto che poi non stavo registrando con la mia voce, ma zero voce, proprio era chiusa la modalità voce, quindi stavo registrando con zero voce, quindi l'ho cancellato il video. E quindi penso che lo farò o domani oppure più tardi, non lo so, ma comunque se lo facevo domani era meglio comunque, quindi per dirvi soltanto che non sto abbandonando il canale. Comunque vi volevo dire grazie per i 240 iscritti, anche se alcuni certe volte non vogliono più essere i miei iscritti e quindi c'è iscritti uguali amici, cioè per giusto così, però comunque se facciamo finta 239 iscritti o 238 iscritti domani facciamo finta non fa niente, state tranquilli. Comunque ho fatto il video solo per dirvi che non sto abbandonando il canale, ma anzi, penso e spero di avere tanto tempo per la prossima settimana per fare tanti video, quindi non mancate, ciao!